Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al concerto appuntamento con il Tg10, l'apertura del nostro telegiornale. Oggi è dedicata all'avvio dei lavori per la rimozione delle camere COC dal lungomare di Gela. Vediamo. Al via i lavori per la rimozione delle due grandi camere COC che per lunghissimo tempo hanno stazionato nell'area portuale di Gela, deturpando gravemente il panorama. Dal primo giorno del suo insediamento il comandante della Capitaneria di Porto, Pietro Carosia, ha lavorato affinché arrivasse prima possibile questo giorno, come lui stesso ha dichiarato ai nostri microfoni. Questo è un target che mi ero prefissato già a settembre del 2014, in quanto mi ricordo perfettamente la prima volta che sono entrato a Gela, vedere questi due cilindri che non sapevo a che cosa servissero sinceramente, ma è un pugno nell'occhio per la nostra bella città. E quindi abbiamo iniziato subito a lavorare per fare in modo che riacquistare un bel paesaggio. Naturalmente in tutto questo devo ringraziare sia l'amministrazione comunale passata, in particolar modo una persona che stimo tantissimo a livello personale, l'ex sindaco Fasulo, e poi ovviamente anche l'attuale amministrazione comunale. Le camere COC nei quattro pezzi in cui sono state separate dall'impresa Gradito, che è un'impresa locale che devo dire ha lavorato fino adesso benissimo, a cui devo fare i miei complimenti, lasceranno il porto nelle prime ore della mattina, già a iniziare tra questa notte e domani mattina, per dirigersi all'interno della raffineria. È un obiettivo importante perché fa parte di diversi target che mi ero prefissato, a iniziare dai rimorchiatori, perché quando sono arrivato c'è stato un grosso problema con i rimorchiatori qua in porto, il servizio di disinquinamento, in quanto purtroppo l'Eureco ci ha lasciato, ma spero che la prossima intervista che faremo sarà per il nostro bel porto, e parlo del porto che tutti chiamano rifugio, ma che per me è il porto di Gela, e poter fare un'intervista quando ci saranno già le draghe in porto, per scavare tutto il nostro porto e portarlo a meno quota 4. Non stiamo lasciando passare il tempo inoperoso, vale a dire che continuiamo sempre a fare pressioni sulla protezione civile che sta appaltando i lavori, per 5.800.000 euro, ricordo. L'obiettivo è quello di, entro i primi ottobre, novembre, al massimo, avere già le draghe in porto per poter iniziare i lavori di dragaggio, e quindi l'estate prossima poter vedere già i primi risultati. Bilancio delle attività annuali dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, tutto in questo servizio, vediamo. Il personale dipendente è la risorsa più importante che l'azienda ha a disposizione, che si sente gratificato e vede realizzati i suoi diritti, lavora meglio. Così il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, ha affermato nel corso degli incontri con i giornalisti, per fare il punto sull'attività amministrativa portata avanti negli ultimi mesi, prima della pausa estiva, e in virtù anche degli argomenti affrontati giovedì con la delegazione trattante. Ridurre le liste d'attesa, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini, garantire i diritti del personale e gli obiettivi che i vertici dell'ASP stanno portando avanti. L'obiettivo principale di questa amministrazione è quello di mettere in linea, secondo quelle che sono le regole che sono presenti nei contratti di lavoro in modo particolare, mettere in linea tutti i diritti dei dipendenti. E su questo stiamo agendo in modo importante, tant'è che abbiamo firmato quest'anno l'accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro, e l'abbiamo firmato nel 2016, considerato che questo contratto di lavoro risale al 2006, quindi dopo dieci anni finalmente siamo riusciti ad ottenere questo. Stiamo attivando ora tutto quello che è previsto nel contratto integrativo, comprese le fasce retributive per dargli agli aventi diritto, e su questo ci siamo confrontati con i sindacati, abbiamo avuto una unità di intente, una univocità di azione, e tra l'altro abbiamo provveduto anche a liquidare a tutti gli aventi diritto quelli che sono i conguagli per la produttività del 2013 e del 2014. Come pure abbiamo provveduto a derogare l'acconto per la produttività del 2016, quindi avere del personale che ha rispettato quelli che sono i suoi diritti per noi è fondamentale. Parimenti stiamo agendo nel miglioramento delle attrezzature di tutto il territorio, tant'è che è notizia di tre giorni fa che sono stati eseguiti i primi esami PET, e quindi la PET, dopo tutto il periodo di collaudo, di verifiche, di messa a punto, finalmente è operativa. Aspettiamo che arrivino le cinque tacche, grazie all'amministratore delegato della Toshiba, riceveremo queste cinque tacche, penso, nella seconda quindicina di settembre. Abbiamo acquistato tre endoscopi di ultimissima generazione, tre colonne di endoscopia, che hanno già allocato a Mussomeli, a San Cataldo e a Gela, con degli endoscopi che sono di ultimissima generazione perché consentono una visione a 360 gradi, quindi esami endoscopici assolutamente sicuri. Siamo il secondo ospedale in Italia che compra questo tipo di endoscopi. Stiamo pensando alla sicurezza, abbiamo avuto approvata la scia per l'ospedale di Sant'Elie, per l'ospedale di Gela, abbiamo provveduto a riattivare la climatizzazione all'ospedale di Gela, che non funzionava da più di dieci anni. Stiamo provvedendo a cercare di sistemare quante più cose possibili. Tra i progetti a breve termine, entro settembre saranno avviati dei servizi online per i cittadini, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri, che permetteranno, grazie a delle apposite applicazioni per smartphone, di prenotare le visite mediche e ritirare i referti. In fase di approvazione, la delibera per ripulire il parco del Dubini e renderlo fruibile grazie a dei percorsi benessere alla cittadinanza. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. La domanda di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata appena di esclusione, entro il prossimo 30 settembre, esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie, secondarie, inferiori, statali e paritarie, cioè ovvero ai liberi consorsi comunali per gli alunni delle scuole secondarie, superiori, statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente se è maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente e possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. ISEE per disabilità. L'Inps rifà i calcoli a seguito dell'introduzione di nuove regole per il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con disabili o non autosufficienti emanate dopo alcune sentenze del Consiglio di Stato e di quanto stabilito dal Decreto Legge numero 42 del 2016, l'Inps da martedì scorso, così come ha fatto sapere tramite una nota, sta procedendo a ricalcolare l'attestazione ISEE rilasciate per le domande presentate entro il 28 maggio dell'anno in corso, un'operazione che terminerà entro il prossimo 10 settembre. Indennità di accompagnamento, pensioni e altre prestazioni percepite per effetto della disabilità infatti non verranno più incluse nella voce di reddito a partire dalle certificazioni emesse dall'Inps dal 29 maggio. Resegevolano i disabili e le famiglie dei disabili in quanto non viene più inclusa nel calcolo dell'ISEE l'indennità per i disabili, cioè la pensione di invalidità civile in diretta d'accompagnamento e altre provvidenze a favore degli invalidi civili. C'è pure una maggiorazione dello 0,5% del parametro della scala di equivalenza, è un meccanismo sostanzialmente che viene a agevolare i disabili e le loro famiglie per quanto riguarda il calcolo dell'ISEE vengono tolte alcune deduzioni e detrazioni ma complessivamente sono delle agevolazioni in maniera tale che i disabili e le loro famiglie possono accedere più facilmente attraverso un calcolo diverso dell'ISEE alle provvidenze sociali e sanitarie che li interessano. Il ricalcolo sarà fatto in maniera automatica e quindi non è necessario venire presso le nostre sedi il ricalcolo sarà fatto a blocchi da qui al mese di settembre e qualora ci siano delle situazioni urgenti è possibile presentare un nuovo ISEE però voglio rassicurare che saranno rivisti tutti gli ISEE che riguardano le famiglie con un componente disabile in automatico quindi non è necessario né venire qui né recarsi presso i caffi in quanto sarà fatto automaticamente da noi. Ferragosto d'Italia, la macchina organizzativa si è già messa in moto saranno tre giorni di puro divertimento, vediamo. Torna il Ferragosto d'Italia 2016 e la sesta edizione si trarrà il 13, 14 e 15 agosto prossimi sulla litorale di Marina di Butera sulla spiaggia adiacente il Lido Panama Beach l'evento gratuito più grande del sud Italia ha in serbo tante novità al fine di sorprendere come ogni anno le migliaia di giovani che trascorreranno la notte simbolo dell'estate sulla spiaggia di Marina di Butera tre giorni di manifestazioni, un vero e proprio festival della musica. La costa buterese merita una certa attenzione noi ci siamo riproposti anche perché sentiamo il dovere di dare delle opportunità a quei tanti turisti che sono nel nostro circondario abbiamo il pieno dappertutto già nel mese d'agosto e credo che anche per questo evento che è un evento straordinario l'unico evento gratuito che esiste nel mezzogiorno dove ci saranno DJ famosissimi, ci saranno tantissimi DJ locali che si cimenteranno per la prima volta ebbene anche dargli l'opportunità di farsi apprezzare, di farsi valere. L'obiettivo prioritario è quello di creare una condizione positiva per il nostro territorio cercare di valorizzare questa parte, questa fascia costiera per consentire a tutti i nostri abitanti, tutti i cittadini dei paesi di Mitrofi ma prevalentemente a tutti quelli che vengono una volta all'anno di offrire loro una spiaggia bellissima, accogliente, positiva poter trascorrere delle vacanze. Lo scopo è di natura turistica ma vorremmo che fosse non soltanto turistico vorremmo che fosse una condizione più continuativa nel tempo che desse più sviluppo al nostro territorio e che potesse creare veramente occasioni per tanti giovani. L'iniziativa è dell'Associazione Culturale Suoni e Visioni da sempre organizzatrice dell'intero evento in collaborazione tra gli altri con Radio Gel Express. Prevista la presenza di artisti di calibro internazionale i quali Riva Star e dei giovani talenti dei Promise Land un duo eclettico attivo dal 2003 ma oramai di fama internazionale che sta scalando velocemente le classifiche dance ed elettro house d'Europa. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo ampliato il nostro programma anziché due giornate diventano tre tre giornate dedicate tutte e tre alla musica dance con le tre sfaccettature diverse la prima con gruppi live sempre dance oriented la seconda con artisti commerciali la terza con artisti più house. Quest'anno come ogni anno comunque avremo degli ospiti internazionali ma quest'anno ci siamo veramente superati avremo un ospite realmente internazionale che fa tour in tutto il mondo a fare a tappa anche in questo territorio. Speriamo che vengano numerosi come tutti gli anni d'altra parte anche che insomma si come sempre finora abbiamo anche avuto la fortuna di non avere mai incidenti o insomma episodi negativi e per cui confidiamo nei nostri giovani perché sono responsabili oltre che vengono a divertirsi in modo sano. Serata dedicata alla cultura al Club Vela di Gela domani alle 21 sarà ospite allo scrittore di Romanzi Gialli siciliano d'origine ma romano d'adozione Carlo Barbieri che converserà con Francesco Pira sull'ultima sua opera intitolata Assassinio alla Targa Florio. Ad aprire l'evento i vertici del Club Vela il presidente Luigi Nastasi e il vice Sergio Antonuccio. L'incontro si svolge con la collaborazione della libreria di Felice Randazzo. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il magistrato Mari Camarino giudice penale al Tribunale di Gela le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 21 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale continuano i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela da mercoledì 3 agosto comincerà il Triduo alle 17.30 arrivo dell'effigio di San Sebastiano nel quartiere Margi alle 18 recita del Rosario alle 18.30 Vespro e alle 19 Catechesi e Santa Messa l'effigio del Santo giovedì 4 agosto sarà portata nel quartiere Albani-Roccelle venerdì 5 nel quartiere Poggio Blasco sabato 6 agosto alle 18 recita del Santo Rosario alle 18.30 Vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari prevista la processione del simulacro in piazza Santa Faustina si terrà la benedizione con la reliquia adesso torniamo ad occuparci del Gela Calcio interviene su tutto ciò che accade alla società calcistica locale il gruppo organizzato della Curva Angelo Boscaglia sentiamo i gruppi organizzati della Curva Angelo Boscaglia che rappresentano il movimento ultra della città di Gela con una nota inviata alla stampa intervengono sulla vicenda relativa all'affidamento ai mancati lavori di messa a regola dello stadio Vincenzo Presti ci troviamo dinanzi all'ennesimo comportamento volto a calpestare la dignità di una società che in quest'ultimo anno ha raggiunto un obiettivo non indifferente sia per noi sia per l'intera comunità la serie D in 5 anni dopo essere ripartita dall'ultima serie leggiamo nel documento una società che grazie al lavoro di molti oggi rappresenta un'eccellenza del calcio siciliano e non che è sinonimo di serietà competenza e che sempre con non poca fatica ha raggiunto gli obiettivi che essa stessa si è fissata una società però che non trova nell'istituzione alcun ausilio alcun sostentamento anche il più ovvio come l'affidamento dello stadio base per poter sempre più costruire radici forti e affermarsi in maniera decisa nella realtà professionistica del calcio giocato o più banalmente la semplice messa in regola di un impianto fatiscente che fine ieri andava bene per le categorie che abbiamo vinto negli anni ma che allo stato attuale ci vedrebbe costretti a migrare lontani da casa ad oggi il gelacalcio rappresenta l'unica e sola realtà in grado di portare il nome il vessillo di gela oltre lo stretto tenendo sempre alto l'onore e la gloria che è insito nella storia della nostra città non riusciamo a spiegarci leggiamo ancora nel documento perché ogni qualvolta si mira a una miglioria c'è sempre qualche disfattista che non vuole che il gelacalcio sopravviva ne siamo testimoni anche dopo le dimissioni del presidente Tuccio chiare e precise che non fanno altro che confermare quanto si lotti e ci si applichi affinché la realtà del gelacalcio venga soppressa facendo persino scoppiare colui che ha dato tutto affinché potessimo vedere il gelacalcio nella nostra città e i livelli che ad essa competono non far crescere realtà sportive sane come quella del gelacalcio è un affronto alla crescita e allo sviluppo della nostra città e da anni che a gran voce chiediamo luoghi più decenti idonei per goderci le partite ed esprimere al massimo l'amore per la maglia della nostra città da anni che chiediamo una ristrutturazione della stessa boscaglia vedendo da un lato la completa e assordante inerzia delle varie amministrazioni brave solo a promettere e dall'altro una società che c'è sempre stata vicina inerme con l'incredibile situazione in cui riversa l'intero impianto metteremo in campo tutte le nostre forze affinché il gelacalcio possa continuare ad essere una nota positiva in mezzo ad un concerto stonato scrivono ancora i responsabili della curva affinché il gelacalcio sia ancora una volta orgoglio della città affinché anche noi possiamo continuare a vivere i nostri momenti di passione e di amore incondizionato per la nostra città ad Angelo Tuccio va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno gli chiediamo pubblicamente di ritornare sui propri passi semplicemente perché sarebbe una sconfitta proprio adesso nell'anno del decennale della sua gestione sarebbe una sconfitta sarebbe l'ennesimo fallimento di un'intera città conclude il direttivo curva Angelo Boscaglia e sentiamo invece adesso come ha commentato la vicenda del sindaco di Gela Domenico Messinese il gelacalcio rimane una ricchezza per la città e incarna l'immagine di quello sport che vuole rialzare la testa al pari di tutta la società civile non possiamo permetterci di spegnere tutti gli entusiasmi sani costruiti sinora lo ha dichiarato il sindaco di Gela Domenico Messinese dopo aver appreso delle drastiche decisioni del CDA della società di Angelo Tuccio ci associamo all'amarezza del presidente per l'atmosfera negativa ma minoritaria che si è creata attorno alla vicenda dello stadio ha continuato il primo cittadino ma l'amministrazione comunale non sarà il commissario liquidatore dei Biancazzurri perché continuerà a navigare con la barra ferma e dritta nelle acque agitate di chi vuole solo mettere in difficoltà chi con spirito costruttivo come il presidente Tuccio ha dimostrato efficienti capacità organizzative e vera voglia di riscatto i lavori per l'adeguamento dello stadio continuano a concluso Messinese soprattutto in vista di una gestione efficace della struttura contrariamente a quanto avvenuto sinora ancora sport il volley Macchitella si prepara a scendere in sabbia con un torneo di beach volley 4x4 e notturna in trazione femminile 12 le squadre coinvolte 48 le atlete del panorama gelese che si sfideranno per contendersi il primo posto di un torneo che vedrà la partecipazione femminile assestarsi al 50% delle presenze l'iniziativa si tiene a partire da oggi fino al 3 agosto presso il Lido Be Cool Beach è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie per la visione Grazie a tutti.